musica 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 secondo me nemmeno i nostri compagni sono accorti che c'ho cavera no neanche su quello che sai controlliamo le camere ah oh c'è twitch perchè già hanno fatto una camera si 1 mi ha già levato 20 di vita stasera twitch di merda ah è arrivata in obiettivo e io spacco il cognac bravo e sono a stemio spacco il cognac 5 secondi la squadra d'attacco ha un contatto attivo con l'ostaggio arrivano dalla cucina diretti proprio di cancivenio anima poca troia drone progetto iq l'ultimo attaccante è rimasto in vita madonna oh putti posiziono il tappeto trappola mado ahahah c'è di vita però vabbè c'è l'ultimo eh non lo so le mie bellezze sono pronte le mie bellezze sono pronte ahahah lo sapevo ahahah vabbè è troppo forte fra lo sapevo tac che c... eh non ho idea si si mettilo lì mettile il vento eh l'avevo messo perchè pensavo di lasciarlo questo qua chiudo si ho piazzato il dispositivo questo filo spinato qua chi lo ha messo? io mettilo sulle scale drone twitch siamo a 5 secondi ragazzi stanno uscendo da qua salto salto ok twitch preso ok c'è ancora un'altra mi pare vai dimitro bene flashato flashato non so da dove ho preso uno con la trappola trappola ce n'è uno alla finestra eh scusa ho preso oh hai fatto bene chi è che mi hai sparato? eh nick progetto back eh ultimo dovrebbe essere fuoco il truccio dall'altra parte della finestra l'ore cardiaco attivato ah ok deciclaz qualcuno si da dove? è blackbeard gli ha messo il punto d'accordo quando non può fare niente siamo a 15 secondi ho cambiato bene 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 madonna proprio mentre rimbolo lo scudo qua sopra? eh c'è lo scudo qua io eh cazzo dispositivo ok la squadra d'attacco ha trovato una bomba cazzo dispositivo piazzato ragazzi qua sulle finestre sono la panico togli del cazzo ma dai passa mi hanno aperto tutte le finestre ahah panico non guardi montegna dove stanno? sono andati un'altra bomba pirco che cazzo stai facendo? ragazzi stessa finestra è lì come cazzo? ma come cazzo ha fatto l'idea? ma come cazzo ha fatto l'idea? sempre glir è sull'altra finestra panico aspetta e dove? dove c'era panico eh? sopra è qua era qui pur che era fatto una kill no! ma ha sciuttato! da dietro! è uscito? hit the draw non si è sentito si ma manco che ci pare questa squadra vuole fare come cazzo ci pare quindi ecco sgamato siiii beh oh cazzo la squadra è uno dell'alfa come da nananananananananananana batman batman nanananananana qualcuno l'ha fatta la botola o adesso fanno il culo a mira? fanno il culo a mira no no nessuno arriva in sotto arriva in sotto ma puti riccardo sentite come scricchiola la doretta non so tu la senti non lo senti non so come hanno fatto da ammazzarmi mettiti alla doretta e sei tipo mobile visuale a merda no 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 nessuno risolvo io no oddio che replay che ho dopo da vedere oh twitch è già dentro ragazzi più c'è già nelle scannele sta venendo dentro sta venendo l'obiettivo ma no c'è ha rotto tutto lo scudo tu vuoi vincere tu vuoi vincere vai marlocki dolbi bravo eh c'è un'altra no caccao dooo cosi? cosi? sei salvo grazie alle corazze di rucca qui c'è nella peccina colpa ma dopo mi sei suicidata con la claymore asciutto l'epoca l'epoca bloccata ricarico bene come piace il cazzo chi lo sa lo sa tutta la città bene fa nel culo merda twitch twitch di merda vaffanculo stronza ragazzi vai a tutte le corazze così almeno piazza da trappolo dovete fare la botola assolutamente guarda è da fare il drone nemico ha trovato lo stagio prepararsi all'assalto qui metti anche qua la batteria sotto ho fatto una botola sola c'era no? no non è da fare ho detto che vado a discorgere rotta a casa hanno fatto ok grande c'è blackbill che sledge dal cucinino è dall'altra parte si se guarda lì da dietro mattex ti ho messo il punto trappolo trappolo mattex preso grazie ok all'altro ci ho messo il punto e dall'altra parte ragazzi sono tutti e due là scocchio matte mattex madonna Ohhhh sii bene 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 così mi piace a palla no mamma non ha voluto anche primo madonna mia grande grande c'è stato c'è stato gli è stato bene a quel blackbill cazzo diav Recarno trappolo alla fine è stato proprio bene ce lo merito a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti